Vogliono il rafforzamento delle potenzialità e del valore della sede di Termoli dell'Università del Molise. Lo hanno messo nero su bianco. Hanno scritto una lettera al rettore Luca Brunese e al presidente della regione Donato Toma. Si tratta degli studenti del comitato universitari Termoli, una missiva chiara, senza interpretazioni, sicuramente caratterizzanti i corsi di laurea con il turismo e l'enogastronomia al centro dell'offerta formativa. Molti di noi, scrive Pierangela Carfagnini, portavoce del comitato, non sono molisani e sono venuti a conoscenza dell'offerta didattica tramite le informazioni sui siti nazionali e raramente dai principali canali social dell'Ateneo. Il motivo principale che ci ha portato a far ricadere le nostre scelte sulla proposta di questi corsi è che per alcuni anni i piani di studio proposti non solo suscitavano curiosità, ma erano poco diffusi a livello nazionale e le alternative più blasonate si riferivano, è ancora scritto nella lettera, a corsi di laurea privati al quale non tutti potevano permettersi di accedere. L'Unimol si è presentata come una soluzione accessibile. Il comitato si appella quindi al rettore e al governatore. C'è da dire che l'emergenza sanitaria ha reso necessaria una nuova formazione in ambito turistico. Gli universitari della sede Unimol di Termoli chiedono un potenziamento che, se messo in atto, potrebbe portare l'Ateneo a identificarsi, è scritto ancora, come centro di studi nazionali ed internazionali. Il potenziamento della sede porterebbe l'università a rispondere alle esigenze di un ampio numero di studenti, considerando che lungo la costa adriatica la più nota facoltà si trova a Rimini, a 360 km da Termoli, e l'altro corso di laurea affine è a Lecce. In un'industria people intensive, come quella turistica, è necessario tener conto non solo dei bisogni dei turisti, ma anche dei bisogni formativi di tutti i soggetti coinvolti.